Benvenuti nella Galassia Rattics. Il mercato dell'auto elettrica è in costante crescita e quindi la domanda che sorge spontanea è quali sono le migliori auto elettriche economiche del 2024? Questa questione che sta diventando sempre più rilevante anche in vista del 2035 e dello stop alla produzione di auto con motori termici, del caro carburanti e dell'incertezza sulle future fluttuazioni dei prezzi alla pompa. Infatti, le auto alla spina, oggi, rappresentano un'alternativa sostenibile alle auto con motori termici tradizionali, non solo grazie al loro ridotto impatto ambientale, ma anche grazie all'effettivo risparmio nel lungo termine. Prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi, mettere mi piace e attivare la campanellina per non perdervi altri aggiornamenti oppure offerte. Scopriamo la classifica delle migliori auto elettriche economiche del 2024. MGZ-S MGZ-S EV è uno dei SUV elettrici più economici presente sul mercato. La versione di base monta una batteria da 51 kWh, che garantisce un'autonomia di 320 km nel ciclo misto. E la potenza complessiva è di 177 CV. Le dimensioni di questa auto elettrica economica sono contenute ma equilibrate, ideali tanto per la città, tanto per le gite fuori porta. MGZ-S puoi trovarla da Rattics nuova, a partire da 16.630 euro. Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3, erede di Golf, ha segnato l'inizio dell'era elettrica in casa Volkswagen. Ed è una delle migliori auto elettriche sul mercato 2024. La prima elettrica della gamma ID, con il suo design futuristico e minimalista, ha un'autonomia di 333 km. Puoi acquistare Volkswagen ID.3 usata da Rattics ad un prezzo di partenza di 26.380 euro. Smart EQ 42 Smart EQ 42 condivide lo stesso pianale di Renault Twingo elettrica, ma possiede una batteria più ridotta. Le caratteristiche principali della piccola city car sono compattezza ed estrema agilità in una versione elettrizzante. L'autonomia dichiarata è pari a 133 km. Nissan Leaf Nissan Leaf è una delle migliori auto elettriche economiche più vendute a livello globale. L'autonomia della berlina giapponese è di 378 km. È disponibile in due varianti di batteria, 62 e 40 kWh. Fiat 500 elettrica Fiat 500 elettrica reinterpreta in chiave decisamente moderna i tratti distintivi del celebre modello nato negli anni 50. La 500 elettrica, lunga 3,63 metri, è perfetta per la città. È scattante ed ha un'ottima tenuta di strada. Non solo è stilosa, ma anche tecnologica. La city car italiana ha zero emissioni, ha un'autonomia di circa 320 km. Ed è possibile avere Fiat 500 elettrica, usata da Rattix ad un prezzo di partenza di 12.110 euro. Volkswagen E-Up, la city car tedesca in versione elettrica, sembrava fosse destinata ad uscire di scena ma è rientrata in produzione grazie alla crescente richiesta di auto elettriche economiche sul mercato. Tornata più forte di prima, l'app elettrica permette di percorrere fino a 260 km con un pieno di energia. Opel Corsa E Opel Corsa E è una tra le migliori auto elettriche e tra le più apprezzate per il suo stile giovanile e condivide la base tecnica con le auto francesi del gruppo Stellantis. E' concreta e ha un'ottima efficienza in termini di autonomia e consumi. Con una ricarica completa può percorrere fino a 360 km ed è disponibile usata da Rattix ad un prezzo di partenza di 14.940 euro. Al terzo posto tra le migliori auto elettriche economiche troviamo Peugeot E-208. E-208 nasce per essere apprezzata per lo più da un pubblico giovane grazie al suo look aggressivo che non passa inosservato. Peugeot E-208 è disponibile usata su Rattix.com ad un prezzo di partenza di 15.920 euro. E l'autonomia della E-208 raggiunge i 362 km. Renault Twingo è una city car agile, maneggevole e decisamente accogliente per avere una lunghezza di 3,62 metri. Twingo nasce sul medesimo pianale di Smart Fortu ed è proposta in quattro diversi allestimenti. L'autonomia della city car francese è di circa 190 km. Inoltre Twingo 100% elettrica è tra le auto elettriche economiche in arrivo nel 2024. Renault Twingo usata puoi trovarla da Rattix a partire da 14.900 euro. Dacia Spring Dacia Spring è attualmente l'auto elettrica più economica sul mercato. Perfetta grazie alle sue dimensioni per la guida in città, è lunga soli 3,73 metri. La capacità della batteria, nonostante non sia una delle più potenti, garantisce un'autonomia di 305 km. Visita rattix.com per scoprire moltissimi altri modelli elettrici o a benzina.